E' stata un'udienza interlocutoria nella quale abbiamo rivolto questioni processuali e richieste probatorie in un clima di grande distensione anche da parte della Procura della Repubblica. Rispetto alle questioni processuali abbiamo chiesto e ottenuto che venisse espunta dal fascicolo una relazione psichiatrica che dal nostro punto di vista e successivamente dal punto di vista del giudice ha natura criminologica e che nel nostro ordinamento non è permessa e abbiamo chiesto al giudice di disporre una perizia genetica volta a convalidare o confutare alcuni elementi emersi nelle indagini. Il dottor Romito si è riservato su questa decisione e quindi attendiamo la comunicazione a mezzo PEC sulla assunzione o meno delle prove che abbiamo richiesto e sulla successiva data. Quindi ad oggi non è stato neppure incardinato un rito. Abbreviato condizionato all'espletamento di questa perizia genetica su alcune formazioni pilifere rinvenute sul teatro del delitto della cui natura ancora non è stata investigata approfonditamente e sulla possibilità di datare i reperti di natura genetica che sono stati rinvenuti nei vari teatri di questa perizia genetica. E sotto altro profilo all'ascolto con traduzione di alcune telefonate in lingua straniera che sono state intercettate nel corso delle indagini, profilo questo che in accordo con la procura se riuscissimo a svolgere mediante acquisizione dei brogliacci sarebbe già risolto. E' una mera questione esplorativa per conoscere. Il nostro assistito si è sempre professato estraneo ai fatti e fin dalle prime dichiarazioni che aveva rilasciato alla polizia ha sempre affermato di aver riportato a Rietta Mata dove l'aveva trovata al momento del loro incontro e questo è quello che con noi ha sempre continuato a sostenere.